Arriva l'ufficializzazione, l'aeroporto internazionale d'Abruzzo aprirà il collegamento con Roma-Fiumicino e più ancora con il resto del mondo. Solo pochi giorni fa la notizia era stata smentita, spiega il neopresidente Mattoscio questioni di iter burocratici. Io non ho né confermato né smentito. Noi abbiamo un dovere da osservare che è lo stile istituzionale della precisa, corretta, puntuale informazione a chi? All'utenza e quindi ai cittadini. Siccome noi siamo responsabili di un servizio pubblico, ho detto sempre, ma lo dico con grande rispetto per il lavoro che fate voi tutti, non siamo noi propensi a poter alimentare gossip o scoop. Tre collegamenti giornalieri per tutti i giorni della settimana, andata e ritorno, che si aggiungono agli 11 in essere con Milano. Un vero traguardo per l'Abruzzo che diventa punto di partenza per qualsiasi meta e come si augura la Presidenza un punto d'arrivo nella terra dai mille scenari, forse troppo sconosciuta, ma di indiscutibile impatto per il turismo. È un grande successo, è il risultato di un'azione corale, si è riusciti a fare squadra, il personale tutto della nostra società, ma anche e soprattutto la possibilità di poter far capire a prestigiosi interlocutori che quanto si è determinati, si mette in pista una professionalità, e più professionalità di indiscusso prestigio, e soprattutto se hanno le idee chiari, corrette, coerenti, che convincono anche sulle opportunità degli altri, allora si vince. Si aprirà il 2 aprile il collegamento, ma è già possibile prenotare i voli a prezzi davvero competitivi. 39 euro per l'andata e 79 andate in ritorno, un'offerta limitata al mese di marzo che fa comprendere quale ambizione si nasconda in questa nuova importante tratta acquisita dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Uno dei limiti storici del nostro aeroporto è che non ha mai avuto un hub, finalmente è un hub internazionale che favorisce i suoi collegamenti con le altre destinazioni nazionali, continentali e intercontinentali.